Ha avuto luogo con una semplice cerimonia la presenza del sindaco Roberto Cosolini la consegna al Comitato per la tutela degli spalmiatori delle cooperative operaie di Trieste e di Stelfruli nella sala dell'ex arbo operatorio Sita e nel Via Malconton 3 nell'ambito del Palazzo Municipale. Nel corso dell'incontro a cui hanno partecipato numerosi cittadini, soci e spalmiatori delle copre, guidati dalla Presidente del Comitato, la signora Caterina Di Benedetto Caioffa, il sindaco Cosolini ha ribedito gli intenti dell'iniziativa nel suo complesso riassumibili in una sorta di doppio binario di attenzione da mettere in campo, seguire da un lato istituzione e comitato soci, la complessa vicenda della salvaguardia recupero patrimoniale delle risorse umane delle copre, nell'ospicio che la proposta di concordato dell'Avvocato Consoli, annunciato per il mese di marzo, possa consolidare le aspettative sia degli spalmiatori che dei 700 lavori interessati. Dall'altro lato, invece, supportare il Comitato Tutoriale degli Spalmiatori per garantire un adeguato prosseguo delle sue preziosi attività di informazione e contatto con i molti soci preoccupati per l'evoluzione della situazione. Ed è proprio in tal senso che lo stesso Cosolini aveva proposto, nel corso dell'incontro con i rappresentanti del Comitato svolto sui municipi il 2 febbraio scorso, di mettere a loro disposizione questo spazio comunale, massimamente centrale e quindi più agevole da raggiungere specie per i soci più anziani, con l'occasione il sindaco ha osservato che questo potrà essere anche un utile test per eventualmente destinare questo o altri spazi comunali disponibili per iniziative non solo espositive o di taglio più consueto, ma anche per attività diverse legate ad esempio al volontariato o all'associazionismo triestino, tanto vivace quanto carente di spazi. Mentre lo sportello inaugurato oggi, iniziava fin da subito a incontrare i primi soci, dando ascolto a risposte ai vari inquisiti, la Presidente Caterina Cagliaffa ha voluto pubblicamente ringraziare il Sindaco Cosolini per questa dimostrazione di vicinanza e a tal proposito la Presidente Cagliaffa ha anche annunciato una prossima manifestazione del Comitato fissato per questo venerdì 27 in Piazza Unità dalle 9.12 per nuovamente segnalare la preoccupazione e le difficoltà dei soci ed invitare tutte le comunità cittadine a vigilare e sostenere una giusta soluzione per le Coppa di Trieste. Lo sportello sarà aperto ogni mercoledì e sabato dalle 9 alle 12.